You have the most unusual name too, Space Ranger, to infinity and beyond! Per i collezionisti più impazienti, per chi vuole viaggiare nei paesi più lontani, per chi ama la lingua inglese, Disney English Specials, una serie nuova e moderna, anche nel look! In ogni videocassetta, un coloratissimo libro glossario, un divertente e utile strumento di consultazione, con i modi di dire, le regole e le espressioni idiomatiche del film. Inoltre, simpatici quiz misureranno la vostra padronanza della lingua inglese. Disney English Specials, tutta la magia dei capolavori Disney, nello splendore della versione originale!